Allora io do il benvenuto a tutti, ringrazio il Rettore di essere qui presente a presiedere. Do benvenuto a tutte le autorità, al Ministro Galletti, all'Assessore Bianchi, a Monsignor Vecchi e alle altre autorità presenti. Saluto con particolare simpatia il fondatore della scuola, il professore Versi Monaco e do un ringraziamento particolare ai docenti, a tutti i docenti che sono qui, alcuni togati qui nella parte absidale di questa Aula Magna, agli associate dean in particolare, ai direttori, a tutte le imprese partner della scuola e poi a tutti gli ospiti, ai genitori, ai fidanzati, alle fidanzate, ai mariti, alle mogli e benvenuti soprattutto a voi che ancora per qualche minuto siete studenti e che questa sera, bellissima classe del 2016, riceverete il Master. Benvenuti di nuovo a Bologna Business School. Desidero ringraziare coloro che hanno reso disponibile e possibile questa serata. Sono numerose le imprese amiche della scuola che ci hanno sostenuto. Avete visto il potere di Fico e della dottoressa Primori che è riuscita addirittura a infilarsi nei nostri server e far partire nuovamente il suo video. Però grazie a tutti coloro che hanno sostenuto i contributi per la serata che seguirà questa celebrazione ci ha già consentito di superare una raccolta di oltre 40.000 euro che andranno in borse di studio per gli studenti del prossimo anno. Quindi grazie a tutti. Un saluto particolare a Stevie Kim che pronuncerà il commencement speech. Il presidente Prodi è in arrivo, bloccato da qualche parte nel traffico. ci ha appena chiamato, il dottor Domenicali di Lamborghini, il dottor Garavoglia di Campari e il dottor Pianon di BCG che svolgeranno così qualche riflessione su quello che sarà anche lo speech di Stevie Kim e il tema della serata. Grazie a tutto lo staff. Di solito lo staff della scuola è sempre la parte meno visibile o meno ringraziata, meno riconosciuta. Io invece desidero ringraziare molto tutto lo staff capitanato da Ilaria Manghi e da Alfredo Montanari e che per questa serata anche con la collaborazione speciale di Angela Belluzzi e a tutti quelli che hanno lavorato per rendere questa serata per voi. Grazie. Sono evidentemente felice, molto felice di essere qui questa sera, la serata più importante dell'anno. Io sono molto onorato di aprire con questo discorso breve, iniziale, che rappresenta anche un modo per tirare le somme e per fare un bilancio. Dalla graduation dell'anno scorso sono successe molte cose, parto con gli aspetti istituzionali su cui sarò molto breve. La scuola ha trovato, speriamo, il suo assetto definitivo di fondazione privata partecipata dall'università e dagli altri soci fondatori, insieme ai soci storici, la fondazione Carisbo, la fondazione Marconi e Profigest. Quest'anno abbiamo avuto l'ingresso di Unicredit e di Unindustria Bologna, sono due soci importanti che in qualche modo ci collegano chi all'Europa e chi al territorio. Abbiamo anche un nuovo presidente del primo novembre, il professor Francesco Bertini, che è il nostro presidente in virtù del suo titolo direttore. E quindi benvenuto alla prima graduation di Bologna Business School, Francesco. Sempre sul piano istituzionale, due piccole pennellate, noi presidiamo un consorzio di Business School internazionali, l'EMBA Consortium, che oltre alla Florida International University, i copiaggi di Rio de Janeiro, la Mirbis di Moscaf, Cranfield, Sabanci di Istanbul, a cui rivolgiamo un pensiero particolare in questo giorno, San Jose State dalla Silicon Valley, Stellenbosch da Sudafrica, quest'anno è la Chongqing cinese. Da quest'anno abbiamo anche l'Indian Institute of Management di Abbamabad, dove i nostri studenti EMBA potranno svolgere la parte internazionale del loro master. In questo anno abbiamo fondato il Center for Digital Business Education, con UX Netapportet, Google, IBM, WPP, GroupM e BCG. Questo centro offrirà quattro master, uno per executive e tre per persone più giovani, tutti in lingua inglese, e rappresenta forse la parte più forte di nostro impegno per quella che è la trasformazione digitale delle imprese. Infine, da qualche giorno, la scuola siede nel Board of Trustees dell'European Foundation for Management Education e penso che sia un riconoscimento molto importante a quello che la scuola sta facendo. Passando agli economics, ai numeri, ad aprile abbiamo approvato il bilancio nel 2015 con dei risultati positivi, abbiamo avuto un valore della produzione in aumento del 6,4%, un EBITDA che è passato dal 4,9% al 9,4%, abbiamo chiuso con un utile, ma non sono questi i risultati della scuola, questi rappresentano solo le condizioni di sostenibilità. I risultati della scuola siete voi e quindi in questo credo che la scuola abbia molta responsabilità, quest'anno ricevono in master 409 persone, quasi tutte presenti, gli iscritti dell'anno attualmente in corso sono diventati 464, quindi con una continua crescita e quest'anno per la prima volta nei master full time gli studenti internazionali hanno superato il numero degli studenti italiani. c'è un grafico che io forse vorrei far vedere, non so se la nostra tecnologia funzioni o meno e se valga la pena addentrarci, ma comunque ugualmente vi do i numeri, ecco questo è un grafico interessante io credo. Questa è la distribuzione tra uomini e donne nei nostri corsi e vedete che c'è una maggioranza di donne che iniziano nei master, diciamo, quelli per neolaureati, quindi persone più giovani e poi avanzando con gli anni, avanzando con i corsi, avanzando con le responsabilità, il numero di donne diminuisce fino a toccare l'11% e il 18% diciamo, ma anche il 29% nelle posizioni executive segno che esiste ancora un tema di differenze molto importante e su questo credo che nel 2016 noi faremo un lavoro molto forte, in particolare per quanto riguarda le borse di studio, per incentivare le donne a partecipare e quindi anche avere più possibilità per assumere posizioni di responsabilità. l'università in questi giorni ha decretato di modificare il nome di professore delle docenti donne in professoressa, in tutti i documenti ufficiali, ricercatore, ricercatrice e così via. Credo che sia una cosa importante perché gli aspetti linguistici comunicano, però penso che assolutamente non sia sufficiente e credo che questo tema sia un tema che debba essere messo ai punti più prioritari della nostra scuola, non soltanto per una questione di pari opportunità, ma anche perché la ricerca dimostra che dove c'è un bilanciamento in termini di diversità di persone all'interno delle organizzazioni, le organizzazioni sono più efficaci. A proposito di borse di studio, nell'anno in corso la scuola ha messo a disposizione un milione e mezzo di euro in borse di studio e fee waiver e un milione e quattro in prestiti sull'onore. Devo anche dire, non possiamo parlare solo delle cose belle e che ci fanno molto piacere, che per la prima volta abbiamo avuto un problema perché per alcuni il concetto di onore rispetto al prestito sull'onore è stato infranto e questa cosa oltre ad addolorarci danneggia tutti perché è evidente che nel momento in cui questo progetto virtuoso dei prestiti sull'onore dovesse in qualche modo incagliarsi sicuramente danneggerebbe gli studenti che verranno però danneggerebbe anche la reputazione della scuola e quindi anche il titolo di master che è su tutti i vostri curriculum. Sono certo che ci sarà una risposta corale di ritorno completo a quelli che sono stati i valori che fino ad oggi hanno contraddistinto il comportamento degli studenti a cui la scuola insieme a degli istituti di credito e in particolare fino ad oggi Unicredit hanno dato fiducia. La scuola deve migliorare alcune cose, penso che debba, l'abbiamo già detto e tentiamo di farlo, investire ancora di più nel career development nel place nella parte di sviluppo di carriera ma anche secondo me anche un po' in una consapevolizzazione di quello che è il ruolo delle persone secondo cui poi alla fine ognuno è artefice della propria fortuna. Ciò nonostante noi investiremo nell'ufficio del career development, investiremo ancora in quello che è la community degli alumni in modo che forse le persone stando in contatto tra di loro possono anche massimizzare le proprie opportunità, anche se i dati di placement sono comunque molto positivi perché mediamente a livello di scuola sfioriamo il 90% di placement nei primi sei mesi. Gli altri aspetti su cui dobbiamo continuare a migliorare penso che siano un po' questo tema di teaching e learning dove il protagonista principale deve essere sempre più chi apprende, forse meno chi insegna anche se chi insegna deve avere una forte responsabilità e poi le nuove tecnologie non solo nel business ma anche nelle modalità in cui svolgiamo le nostre attività. Prima di concludere vorrei dire a ognuno di voi che oggi ricevete il master qualcosa di personale. Io ho 51 anni e quando ero studente ho finito un po' tardi, ne avevo 25, però tutto sommato sono passati 26 anni e non un'eternità, il management era sostanzialmente controllo dell'incertezza, strumenti per competere e per controllare l'incertezza. Oggi credo che la situazione sia molto diversa nel senso che la dotazione di strumenti conoscitivi è data quasi per scontata, è dato quasi come un elemento ovvio e lo stessa cosa vorrei dire per quelle che sono state le soft skills così forti, così enfatizzate nel mondo del management in tutti gli anni 90 e anche nei primi dieci anni di questo millennio. Team building, emotional intelligence, gli aspetti di decision making, situazioni sotto pressione, l'empatia. Ecco, noi professori di management principalmente chi insegna le mie materie, comportamento organizzativo, forse dobbiamo capire, ma questo insieme a voi, che questi aspetti non bastano più. Ormai questi aspetti, anche le soft skills, sono dalla parte delle competenze tecniche, cioè delle cose che diamo per scontato. Oggi voi affrontate la globalizzazione, affrontate la trasformazione digitale con quello che riserverà sicuramente in grande accelerazione, affrontate le crisi di governance mondiale, affrontate i temi le pressioni a cui è sottoposta la nostra società, la diminuzione delle risorse per i servizi sociali, i fenomeni di terrorismo, è inutile nasconderli, in qualche modo la trasformazione della società. Essere manager non è più fare bene il proprio compito, non è più svolgere bene un compitino. Credo che servano persone che abbiano consapevolezza di quello che stanno vivendo e grande senso di responsabilità. Penso che questa sia la vostra grande missione, a qualunque livello periate, perché le conseguenze delle azioni e delle decisioni delle persone sono conseguenze delle proprie azioni e decisioni a qualunque livello uno operi. Ve lo dice uno che pensa spesso a questo tema rispetto a se stesso e vive questa cosa con fatica. Qualcuno oggi sta parlando di cut flower culture, la cultura del fiore tagliato, cioè l'idea del fiore che se lascia le sue radici, lascia il suo fusto, lascia il suo nutrimento, può rimanere fiore per un po', ma poi appassisce. Ecco, io credo che questo sia uno dei problemi della società occidentale, ma credo che sia anche uno dei problemi delle imprese. E quindi da parte mia, da parte dei direttori, da parte dei docenti di tutta la scuola, l'augurio più sincero per il vostro futuro e per le vostre vite, restate attaccati ai vostri valori e il fiore continua a vivere, a dare nuovi boccioli ai nuovi fiori. In bocca al lupo.